e now girls and boys che vuol dire adesso ragazzi e ragazzi baby show international che vuol dire baby show international a voi londra sono sempre io artemis da londra o guardate questo microfono lo vedete andiamo ad una festa venite e seguitemi da questa parte non sono invitata però cerco entrare lo stesso venite 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 ragazzi eccoci qua adesso sono il campanello vediamo cosa succede simpatico il ragazzo dunque cosa fare andiamo venite con me ha un'altra idea sai cosa sono sicuro che ci sia una porta nel giardino quindi andiamo da questa parte ah mi raccomando per chi non lo sa lì john è quello dell'immagination e adesso abbiamo bisogno di imagination immaginazione per entrare qua dentro ragazzi seguitemi per me mi mettono in galera stasera venite ci siamo ci siamo siamo silenzio silenzio adesso provo oddio che la mandi buona non ce l'abbiamo fatta dobbiamo escogitare qualcosa di più turbo dunque riproviamo da questa parte ragazzi ce l'ho fatta ciao ciao i'm the original black viking p.a.p.a.d.w. papaday and you you i am artemis from junior tv ragazzi questo è il famosissimo rappe ve lo ricordate pappaday can you do some rap for us ciao bella ragazzi adesso vado da lì john per me mi dà una botta in testa però io ci provo lo stesso provano a nuovo ci dicono è lì caro lì perché fai questa festa questa sera you finally find yourself inside ok ok amico alfa becca produsso come to london a very good coast man of mine tonight tonight dico oh avete sentito o non avete sentito ragazzi il signor baker arthur baker è qui stasera il produttore dell'imagination produttore della daniana rossa è qui stasera quindi fra un po' andiamo a vedere anche lui buongiorno buonasera buonasera buonanotte buonanotte un saluto a tutti no questo non riesci a dirlo buonanotte buonanotte quale tipo di musica ti piace? a parte da quello che ti fa tutto jazz, blues, gospel, motown tutti tipi jazz, blues, motown, tutti tipi di musica jazz, musica jazz, musica marianca ragazzi guardiamoci in giro, fate un saluto guardate che bello, che ne dite? Vestito di rossi, ciao, di ciao all'Italia, ciao Italia, vediamo. Ciao Italia, ciao Italia. Buon 1993, a tutti buon anno.